La Guardia di Finanza si è presentata in Comune mesi fa per le perquisizioni ma è stata un fulmine a ciel sereno per la cittadina ampezzana la notizia dell'arresto del sindaco Andrea Franceschi che si trova ai domiciliari accusato di turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente in relazione ad un bando di gara per la gestione del servizio rifiuti. Secondo l'accusa Franceschi avrebbe fatto pressioni sulla responsabile dell'ufficio lavori pubblici del comune perché revocasse il bando per sostituirlo con un altro di diverso contenuto con l'obiettivo di favorire una delle aziende in gara che poi si è giudicata l'appalto. La funzionaria si sarebbe rifiutata e per questo il sindaco assieme ad un altro assessore avrebbe deciso attraverso una delibera di incaricare un altro tecnico esterno al comune per collaborare e redigere gli atti tecnici di gara. Per questa vicenda Franceschi è indagato per violenza privata nei confronti della funzionaria. Infine l'ordinanza di custodia caudelare fa riferimento ad una terza vicenda che riguarda il comandante della polizia locale di Cortina. A ridosso delle elezioni che poi hanno visto la sua rielezione Franceschi per non creare malumori in paese avrebbe ordinato al comandante di non utilizzare autovelox ed etilometri fino all'appuntamento elettorale avvertendolo che in caso contrario gli avrebbe revocato l'incarico. Nel sindaco sono indagati anche due assessori comunali, il suo vice Enrico Pomparin e l'assessore ai lavori pubblici Stefano Veroccai, oltre ad una dipendente comunale.